dalla località salimbeni si parte per una bella camminata molto semplice si passa in mezzo dei pini marittimi si prosegue poi uno sterrato una bella vista di montisi di tutta la valle fino a siena petroio un'altra località della zona si entra nel bosco e si arriva dei tavoli di pietro dove è possibile fare anche un picnic si esce dalla lavadura si sale in questa mulattiera ed ecco che compare il crociore circa un'ora di camminata andate e ritorno